una piattaforma streaming è troppo bello non ve ne frega un cazzo escile non gliene frega niente dei tuoi contenuti escile escile ma come escile no no non fare questa cosa no no guarda lo sto per fare lo sto per fare ragazzi è il mio momento grazie finalmente che me l'hai detto adesso sto per sei un coglione vai in bagno siamo contrari alla violenza